musica 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 luga nel cassetto vediamo galletta galletta potrebbe servirmi tannico non so cosa serve ma prendiamo per sicurezza chiudiamo tutti e due i cassetti e andiamo avanti a fuga ok vediamo cosa troviamo medicina beh può servire questa non hai più spazio creare bisace con capienza aumentata e come ah deve andare da perso allora guarda allora guarda vediamo vediamo qua un paio di giorni sull'accento te ne sono dormite chiudo il becco forse guarda 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 falsa è sempre detto che non possiamo permetterci questa è una cosa migliore da fare ok andiamo e andiamo e andiamo uh quanti siamo ok guardata guarda 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 a va bene detto so che ultimano ti vanno un genio limite ma è una cosa giusta da fare ok anche se la tua parte c'è comunque diciamo che la grafica ovviamente dei rei è migliore di quella gta 5 perché boncetti a 5 fatto è stato fatto nel 2013 questo se non so quando è stato fatto comunque è stato fatto molto dopo mi sembra bene ma dove dobbiamo arrivare dove il fumo un attimo che mangiamo qualcosa cosa posso mangiare questa cosa serve a questo capitano la salute beh no non l'utilizzo meglio al momento ok fermi qui ah ecco il fumo è stato ben mister williams vuoi due nascono appena fuori dall'accampamento ok vuoi due mantenete questa posizione andiamo perfetto assi devo scendere vai 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 mangia potrei mangiare ancora ok vediamo non ecco lì ah ecco lì vediamo qua a pensare a questo mi seguiamo no meglio occuparci degli altri ok aspettiamo che vadano quindi bene ma cosa abbiamo una galletta biscotti vabbè intanto mangia un'altra galletta perfetta quante gallette devo mangiare dove ho il mio cavallo qua allora prendi dove è andata armi lunghe questa dovrebbe essere grazie e andiamo ok dopo ho visto che ci sono anche modi comunque per questo gioco non so di che modi potrebbero trattarsi come vedere una volta abbiamo fatto le storie a diciamo fino a dove dobbiamo andare dobbiamo seguire tracce forse probabilmente se attento che questa parte ripida ok rischiata lo stiamo facendo correndo tutto bello comunque anche la fisica degli alberi che si muovono come nella realtà praticamente non come soggetti a che qualche albero oltrepassi cose qualche albero vola nel nulla prende questa vai 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 che ci siamo nasconditi un attimo prendi questa un attimo ok vai forse ho sbagliato non lo so sono tutti con me questi bene prendi questo no sto prendendo colpi non so da che ma perché aiuto non ho vita medicina vai non lo so dai che preso ne sono molti però dai preso ora sarà qua uno c'è preso anche questo dove è andato quello che va qua ma c'è ancora qualcuno è solo che non li vedo a eccolo ho finalmente è andato giù ce ne sono altri non sa dove dove sono non riesco però nasconditi dove va qua preso non lo vedo nasconditi non è che sia qua cambiamo questa c'è preso anche qui ce l'abbiamo fatta no ti ma l'abbiamo un sigo dobbiamo un po qua in giro ispeziona cosa abbiamo brutta bella frutta potrebbe servirmi porta monete dai occhio occhio c'è qualcuno preso occhio prendi ok perché dovrei mi aveva la testa per prima no quasi ok anche questo bene ma quante c'è uno ottimo lavoro bene allora dove bisogna andare ok qua io volevo cercavi qualcos'altro ruga vediamo ha dobbiamo trovare detonatori ok che sono qua occhio al fuoco magari nel baule potrebbe essere no non sono detonatori queste sarà nella zona cerchiata non so dove potrebbero essere forse saranno qua vabbè galette possono servire vedo in scatola può servire il sigono buono molto ma ok pensavo che fossero qua ah che non siano qua vediamo oh ecco ho trovato tutto vedo di sei capo bene un certo mister bene bene e andiamo oh no ok vai 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 mangiamo qualcosa che sto vedendo che ho fame questa bene vai giù come 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 vai 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 ma come faccio a prenderlo con l'azo o l'azo ecco sì però è so sì per legarlo ah devo legarlo così ok prendi così bene andiamo vabbè corriamo che se no qua e facciamo ok non so però se arriva da solo così vediamo ok ok dai cioè comunque sta andando giusto eh vai allora se va giusto no no però niente allora guido io qua così così vai così vai beh non dovrebbe mancare molto sta venendo buio eccoci eccoci qua eccoci qua ah devo smontare dal cavallo vediamo as leva dobbiamo portarlo alla capanna va bene ok ok Troviamo un posto sicuro prima e poi vediamo un po' di fame. Ok. Inoltre che bisogna nutrire? Vediamo cosa bisogna fare con te. Ok. Ok. Bene. Ok. Ok.